SALUSA 11 Luglio 2011. Come promesso, le ragnatele di inganni e falsità sono pian piano spazzate via, e oggigiorno avvengono nuove rivelazioni, che mostrano quanto le autorità siano corrotte e quanto sia necessario sbarazzarsene. Se veramente volete delle istituzioni oneste e degne di fiducia, è ovvio, che occorre sostituirne il personale con gente nota per essere adatta al momento attuale. Molti sono stati appositamente preparati per quest'occasione, e se non state già lavorando per la luce, presto sarete chiamati a farlo. Invitiamo tutti a contribuire in ogni modo possibile, sia pure e solo effondendo luce e amore. Non occorre che il vostro contributo sia necessariamente qualcosa di speciale, quel che conta è che venga dal cuore e dall'anima. In vero, come parte dell'umanità collettiva, state facendo un magnifico lavoro, grazie al quale l'energia cresce in modo esponenziale. Costatiamo che la gente non ha più paura di esprimere la propria verità e cresce la fiducia, che ogni giorno vi avvicina all'inizio di una successione d'eventi molto importanti. Come potete comprendere, l'attesa prima o poi finirà, perché la pressione sugli oscuri sta creando ai nostri alleati le opportunità d'entrare in azione. Sta per venire il momento in cui gli oscuri dovranno piegarsi alle contingenze ed ammettere che non detengono più il potere. Noi desideriamo dare inizio alla divulgazione affinché la verità possa essere rivelata, come pura la presenza delle nostre astronavi e, ovviamente, dei loro equipaggi. È necessario, inoltre, che siate informati dei numerosi contatti avvenuti tra noi e di i vostri rappresentanti politici e militari, per motivi attinenti alla pace. Sorgeranno molte domande quando si saprà quante volte abbiamo tentato di instaurare la pace mondiale. Entrare in contatto con voi è la conclusione più che ovvia e fa parte della vostra crescita. Avete già da tempo partecipato alla conquista dell'espazio ed è ora che incontriate la vostra famiglia spaziale. Di fatto, non potete andare oltre ai limiti ora raggiunti, perché in alcun caso vi sarà consentito di portare armi fuori dell'atmosfera terrestre. L'uomo illuminato potrà farlo e, in verità, vi unirete a noi per visitare il grande spazio esterno. Le nostre astronavi non servono solo a trasportarci qui attorno, ma sono anche concepite per viaggiare molto distante, persino in altri universi. Alcune sono stazionate vicino alla Terra già da 50 anni circa. Noi andiamo e veniamo volontà in velivoli più piccoli, ideati per muoversi nella vostra atmosfera, e sono quelli da voi più di frequente avvistati. State per fare un enorme balzo nel futuro e noi siamo qui per garantire che tutto andrà per il meglio. Ormai dovete avere un'idea abbastanza chiara di ciò che questo comporta e, tuttavia, sappiamo che ne sarete sorpresi. La vostra rapida scesa dalle tenebre la luce è tutt'altro che completa, ma ogni qualvolta fate progredire la vostra evoluzione, accelerate i cambiamenti. Individualmente, è possibile provare pace e serenità, ma l'obiettivo è di elevare tutti in vista dell'ascensione. Molti sentieri vi si dirigono, consentendo ad ognuno di manifestarla secondo la propria visione. Non importa quel che ora credete, ma che siate pronti per il grande giorno, quando tutto si svolgerà come vi è stato spiegato. La sicurezza degli oscuri sta svanendo rapidamente, perché non possono più contare sull'obbedienza dei loro accoliti, alcuni di loro, infatti, si stanno volgendo verso la luce, cambiando vita drasticamente. Questo non è del tutto inatteso, poiché molti furono obbligati a lavorare per le tenebre, spesso non vedendo altra via di scampo. Tutto ciò sta cambiando e i nostri alleati sfruttano ogni debolezza nell'abilità di controllo del futuro da parte degli oscuri. Le grandi multinazionali infiltrate dagli oscuri, li stanno individuando e mettendo alla porta. A riguardo, le Nazioni Unite non fanno eccezione e le mene segrete non possono sussistere sotto il nostro occhio vigile perché, letteralmente, non esistono nascondigli di cui non conosciamo l'esistenza. Di fatto, non esistono rifugi inespugnabili e noi abbiamo i mezzi per rimuovere gli individui, che continuano ad essere un pericolo per la popolazione. Non appena il piano divino comincerà a manifestarsi, ci sarà molto da fare in posti influenti come il Pentagono. Talvolta siamo veramente stanchi dei continui battibecchi tra i vostri partiti politici. In futuro, non esisteranno più perché ci saranno metodi più efficaci per prendere rapide decisioni intese per il bene comune, non ci saranno più mire segrete e tutte le trattative saranno rese note, affinché il popolo possa sapere esattamente cosa accade. Noi non perdiamo tempo con la politica, perché abbiamo i consigli, in cui sono rappresentate davvero tutte le opinioni, e ci fidiamo interamente delle loro illuminate decisioni, perché non comportano alcune interesse personale. I vostri sistemi politici sono corrotti ed arrivano persino ad ignorare le vostre stesse leggi e costituzioni, erano destinati a fare fiasco e, comunque, sarebbero implosi, avrebbe potuto esser diverso, ma non avevate abbastanza persone di luce da poter mantenere un livello tale da garantire una società equa e onesta. Vivendo nella dualità avete, in ogni caso, imparato molto e rafforzato la vostra capacità di sopportare le energie negative, in caso contrario, è dubbio, che avreste potuto invertire la tendenza verso l'autodistruzione. Adesso vi sono stati promessi cambiamenti, che vi offriranno una nuova vita, che in confronto alla presente sarà a dir poco paradisiaca e beata. La pace regnerà sulla Terra, a prescindere da quel che pensate, e l'epoca delle guerre tramonterà per sempre. I vostri timori, pertanto, saranno risolti e potrete concentrarvi sul magnifico futuro, che sta emergendo per voi. Madre Terra continua tranquillamente la propria ripulitura, che è ben lontana dall'essere terminata. Alcune trasformazioni più importanti sono rinviate, affinché avvengano quando noi saremo con voi, in modo da poter meglio monitorarle e controllarle. Non c'è alcuna intenzione come molti credono di distruggere parti della Terra, con conseguente scomparsa di moltissima gente. È vero il contrario e noi ci adopereremo per garantire che partiranno soltanto coloro che avevano deciso di lasciare la Terra prima dell'ascensione. Io sono il siriano Salousa e, ancora una volta, sono felice di questa opportunità per illustrarvi quello che stiamo ora facendo. Grazie, Salousa. My Quinsey Traduzione Costanza 2003